ai 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 niki abbiamo lo stesso taglio di capelli manca solo la soffi ma adesso la convinciamo glielo facciamo fare anche a lei è i miei sono sia hanno una piega leggermente diversa dalla tua però vedi abbiamo lo stampino adesso niki stesso taglio dici un po dove stiamo andando comprare le cose per scuola l'elenco ce l'ha nicole vero amore poi io ce l'avevo sul telefono ma l'ho trascritto così può tenerlo in mano lei e controllare e andiamo con lo zio che era al centro commerciale perché ci si è aggregato praticamente perché anche lui deve venire a vedere non ho capito cosa forse gli scarponi della montagna allora una forbice che colore la vuoi c'è rosa tipo rossa e come faccio a tirarti su se no c'è verde blu gialla gialla verde blu basta solo questi colori ci sono quale ti piace di più? a me è quella rossa gialla va bene gialla gialla è bella ok ma rossa perché l'ho detto io? no perché bella però non ho indecita però è gialla è rosso visto che semblia un po' più a rosa è un bel rosso quello tipo un rosso anguria sì comunque è bella pure gialla rossa o gialla? ok carrello e uno colla Niki puoi toglierla dall'elenco piano a che punto siamo? un attimo che vediamo il raccoglitore ormai lo segno va bene io aspetterai te l'ho detto vediamo se c'è qualche raccoglitore con dei disegni che ti piacciono di più lo cerchi lo cerchi lo differenziamo andiamo avanti cos'è quello? per fare gli esperimenti per la frutta sì come si fa? devi fare i colori della frutta e poi c'è i colori di matice boh bisognerebbe leggere le istruzioni dentro due due quaderni a righe di terza ok righe di terza le abbiamo qua questo e questo a righe di terza devi sceglierle un altro da qua oh che carino però vediamo se ce n'è uno più bello no quello col gatto è bellissimo sì è vero ok quanto è nostro gatto? sì è vero l'ho fotografato quindi due righe di terza li abbiamo presi questo sembra Charlie sembra Charlie hai guardato tutto dietro se c'è qualcosa che ti può piacere di più? no no? perché non ce ne piaceva che la giù è tutto ce n'è un altro con Bambi? sì preferisci questo? uno dei due che hai? no? con il mio gatto ma è bellissimo il gatto ma è più bello Bambi mamma è più bello Bambi? guarda eh però Bambi lo puoi prendere anche quello a quadretti ok allora prendo il gatto qua e il mio gatto a quadretti guarda cosa l'ho trovato me lo prendi? è a righe ne devi scegliere due a righe vuoi prendere quelli? questo è il posto che è il gatto ma il gatto è bellissimo dimmi secondo te quello è più bello mamma allora il gatto io lo terrei perché è il più bello per me è più bello il coniglio poi è anche rosa e l'altro scusa com'è? quello l'altro lo devo fare io l'altro? ah è quello con i cani questo dove è che era? ah è quello con i cani ah è quello con i cani